Benvenuti. Introduce questo nostro segmento un consigliere di OBE, anzi il vicepresidente di OBE, Vincenzo Piscopo, quindi la parola a Vincenzo, benvenuto, per darci anche un po' la mappa concettuale di quello che andremo a raccontare tra pochissimo. Potete fare di meglio. Innanzitutto anche io dirò che è bellissimo essere qui perché gli anni scorsi diciamo è stato difficile fare il summit senza presenza e è bello essere qui per poterci confrontare live. Faccio una brevissima introduzione. La cosa che volevo dire è che da stamattina abbiamo sentito molto e parlato molto di questo effetto di cambiamento, di come muta l'intrattenimento del brand entertainment e come le piattaforme poi hanno un impatto sulla nostra dieta mediatica. Una cosa che però non cambia è le audience. Il fatto che ci sia un audience generato a cui poi i brand in qualche modo si possono associare e che vogliamo mettere noi editori ma anche creator e tutti quelli che sono possessori di queste audience già create a disposizione dei brand. Nel 2014 quando Eric era stagista e io facevo il tutor degli stagisti ci siamo affacciati sul mercato del brand entertainment portando quella che erano le nostre audience digitali sviluppate su piattaforme e sui nostri siti proprietari. Questo è stato possibile perché era un nuovo spazio che si andava a creare diciamo che questi spazi poi mutano appunto le piattaforme e le modalità di intrattenimento ma ci sono sempre e ci saranno sempre. Lascio quindi la parola a questo ora molto più quotati di me a parlare sicuramente. Grazie Vincenzo Piscopo grazie. Allora c'è questo mito del 2014 che ci stiamo portando dietro da Rollini da stamattina. Allora nel 2014 Nicola Mendelssohn vicepresente di Facebook in Europa diceva il futuro dei prossimi dieci anni sarà video video video. Però poi abbiamo imparato a capire negli ultimi tempi che questo futuro video 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 si declina anche in altre piattaforme. Io vedo qui il direttore Mario Calabresi. Allora parlato della varietà delle piattaforme della declinazione di queste piattaforme vorrei partire proprio da questa presenza ingombrante talvolta della voce che noi abbiamo imparato a conoscere anche il mese scorso con la ricerca dedicata di Obe e andare a capire che cosa sta avvenendo nelle potenzialità dell'intrattenimento quando non si declina necessariamente con quel video video video. Buon pomeriggio a tutti grazie io sono convinto perché diciamo ci ho scommesso tutto sul invece sul sull'audio perché parto da un da questo dato che i nostri occhi sono pieni e io ricordo che quando lavoravo a Repubblica prima alla stampa come direttore in tutte le strategie c'era questa battaglia pazzesca perché non avevi più quelle certezze del passato in cui tu sapevi che una persona andava in un'edicola comprava il tuo prodotto e la battaglia si svolgeva all'interno di quel prodotto o al limite con un prodotto simile non compravano Repubblica e compravano il Corriere della Sera o compravano un altro giornale. Invece tu avevi il problema che adesso stavi in dei luoghi che fosse col tuo sito con la tua app o con i tuoi social in cui le persone semplicemente spostando leggermente il dito vedevano un'altra notifica andavano a vedere una fotografia arrivava un messaggio su whatsapp instagram un gol su da zone. La quantità di stimoli e per cui la battaglia per l'attenzione era fondamentale e dovevi fare di tutto per ridurre per esempio è stato il grande tema parlate del 14 intorno al 14 al 15 e la grande discussione è stata ridurre i tempi di latenza. Cioè voi vi ricordate forse ve lo siete dimenticati ma che soltanto 6-7 anni fa quando tu caricavi un contenuto passavano 2-3-4 secondi il problema è che spesso in quei 4 secondi tu perdevi la persona. E allora se tu facevi una battaglia magari per 15 secondi di attenzione se avevi il handicap dei primi 4 era disastroso e quindi si fece tanto lavoro gli istantarticos tutto doveva essere istantaneo e si è arrivato all'istantaneo e c'era quella battaglia. Sostanzialmente io credo questo siccome tutto si svolge alla fine inutile che ci nascondiamo qua dentro qua dentro c'è la battaglia per l'attenzione dei vostri e dei nostri occhi. Ci sono però una quantità di ore durante la giornata in cui una persona fa altro, guida, corre, sta sul tapirulano, taglia la verdura, cammina per strada, riordina, sta al supermercato. In cui non sta facendo qualcosa che necessita un'attenzione vigile a un pensiero ma sta facendo cose automatiche in cui c'è tempo e quindi io sono convinto che la voce sia uno strumento che entra in quel tempo e ha una concorrenza molto inferiore. E' una cosa che è chiara e che ha una buona penetrazione ed è abbastanza intuitiva e inattiva tra i ventenni e i trentenni. Dico ventenni e non dico quattordicenni, quindicenni perché non è così, perché a quindici anni l'attrazione del video è superiore. Cioè a quindici anni preferisco TikTok a Spotify o a un podcast o alla musica. Invece da 19 e 20 in su sta prendendo piede sempre di più questo fenomeno che va esattamente in tutti quegli spazi di tempo in cui tu non puoi vedere mai ma puoi ascoltare. Secondo giro andremo anche nel comprendere come per i brand si apre una prospettiva di questa narrazione vocale ma ci arriveremo. Aggiungiamo un tassello a quello che ci dice Calabresi perché ci parla dell'elemento della voce però lì New York Times ci dice che la tv del ventunesimo secolo abita Twitch. Dove c'è tv ma c'è anche l'elemento di chatting, di conversazione, di community ed è una tv estesa. Cosa sta accadendo da voi e se ci dai anche un perimetro per inquadrare un fenomeno che sostanzialmente è nuovo anche per il mercato italiano. Assolutamente, intanto grazie a Simonetta per l'invito, sono felicissima di essere qua in questo panel pazzesco quindi è davvero un onore. Allora che cos'è Twitch? Sei tu che svecchi noi. Allora Twitch è il primo servizio al mondo di live streaming interattivo. Interattivo è la parola chiave quindi come dicevi tu giustamente Gianpaolo parliamo di una tv, una tv del ventunesimo secolo. Immaginiamoci la tv con un palinsesto, con dei canali, con dei conduttori che sono i nostri creator, i nostri streamer. Qual è il grande fattore differenziale rispetto alla tv? Tutta la parte di community, di interazione, il chatting. Quindi questa comunicazione bidirezionale che si crea tra lo spettatore, il viewer e il creator. Quindi io oggi posso interagire in maniera molto autentica, molto semplice, molto spontanea con quello che oggi è il conduttore del mio programma televisivo se vogliamo riportarla ad una modalità più tradizionale. Questo è un po' il cambio del paradigma. Che cosa caratterizza Twitch in questo scenario attuale? Intanto faccio un passo indietro. Noi abbiamo, si parlava del 2014, noi esistiamo da prima del 2014. Twitch l'anno scorso ha compiuto 10 anni, quindi abbiamo 11 anni. Quindi sembra un fenomeno nuovo, in realtà è un fenomeno che sta evolvendo e è sicuramente esploso negli ultimi anni. Ma comunque non parliamo di una startup nata l'altro ieri. E quindi abbiamo sicuramente un osservatorio molto privilegiato nel capire che cosa è successo e che cosa è cambiato. Nasciamo sicuramente come videogames, tutti pensano a Twitch quando si parla di videogames. E abbiamo visto comunque quanto sono importanti oggi il mondo del gaming e il mondo dell'e-sport. Ma in realtà oggi siamo a tutti gli effetti un servizio di intrattenimento. E quindi questo perché diventa rilevante per i brand? Perché i brand si possono inserire in questo circle of love, come lo chiamiamo noi, tra lo streamer e la sua community. E se il brand, come diceva Luca Bernabè prima, se il brand si inserisce in maniera autentica, in maniera spontanea, in maniera coerente, corretta all'interno del contesto, del contenuto, questo amplifica ancora di più la potenza di questo strumento. Restiamo sulla forza diciamo dello strumento, della parte diciamo relazionale, interattiva. E vorrei aggiungere alla conversazione Andrea Sant'Agata, perché rappresenti un colosso come Mondadori Media, però tu ti sei sempre occupato anche di quelle community, chiamiamo tribù o micro tribù a valore aggiunto, che ora però sono anche qualcos'altro rispetto alle tribù. Cosa sta avvenendo in casa Mondadori e come quelle tribù si stanno e si sono di fatto rafforzate? I brand sono completamente cambiati, i brand editoriali. Se noi pensiamo a un giallo zafferano, My Personal Trainer, ormai il brand è una casa. È una casa che vive quasi più sui social che su qualche altro. Cioè il giallo zafferano lo puoi trovare in televisione, lo puoi trovare come rivista, sito web, app, Alexa. Ma alla fine il cuore è il social. Perché il cuore diventa il social? Non solo perché sul social c'ha 20 milioni di fan solo in Italia, quindi è chiaro che anche solo la rilevanza mass-mediatica è fortissima. Ma perché crei la community vera. E qui il brand, il vero protagonista, quando uno parla di giallo, non è giallo zafferano. Perché i veri protagonisti sono le persone. E questa cosa è sempre più vera. L'editore del nuovo millennio fa un lavoro vecchio, che è selezionare talento per creare contenuto che piaccia. Ma lo fai in una maniera completamente diversa. Perché chi crea il contenuto, se andiamo in alto, è il creator. Ma in realtà ci sono tantissimi contributi che noi riceviamo dalle persone stesse. E noi dobbiamo essere in grado di selezionare il talento e sapere qual è il nuovo tipo di contenuto che piace. Con molta umiltà. In questo momento, secondo me, c'è una grande rivoluzione nel corso dei media. Uno che si ritorna a parlare di contenuto. E non di algoritmi e di dati. Perché alla fine, tutto quello che ci stiamo dicendo, nessun podcast vince, nessuna diretta su Twitch vince, se il contenuto non è un buon contenuto. Puoi aver analizzato tutti i dati che vuoi. La seconda cosa è che devi avere l'umiltà di capire i nuovi linguaggi. Secondo me, il grande linguaggio di questo momento, che è veramente la vera rivoluzione, sono i video brevi. Sono un linguaggio che sta creando, secondo me, la nuova televisione. Non so neanche se si può dire che Twitter o Instagram, quando guardano un reel, è un social media. È, secondo me, un nuovo tipo di palinsesto televisivo, quasi. Però il contenuto che ci sta all'interno è un contenuto impensabile fino a un anno e mezzo fa. È un contenuto verticale di meno di un minuto, assolutamente spontaneo, che non deve avere una serie di linguaggi a cui la pubblicità e la comunicazione ci hanno abituato, vanno abbandonati tutti mentalmente. Il patinato, ecco, metti il patinato e sei fuori dal gioco. Tutta una serie di cose. E l'editore deve saper capire tutto questo per renderla a disposizione, prima di tutto, del suo pubblico. Se hai il pubblico, poi ci sono anche gli investitori pubblicitari. Ecco, io su questa idea della centralità del contenuto vorrei sentire Calabresi e anche sulla logica del coinvolgimento della community in un elemento, diciamo, di narrazione vocale. C'è questa dinamica di interazione, di relazione? Che il contenuto sia fondamentale e centrale non c'è discussione. E cammina solo se è un contenuto di qualità. E si vede quanta differenza fa. Con la società che guido, che si chiama Cora, che fa podcast, noi abbiamo investito, per esempio, l'anno scorso su un podcast che è uscito alla fine dell'anno sulla storia della Costa Concordia, che si chiama Il Dito di Dio. Abbiamo fatto un lavoro francamente eccessivo. Cioè ci abbiamo lavorato nove mesi su una serie podcast. Nove mesi mettendo tantissime risorse e tantissima cosa. Sono uscite in contemporanea cinque serie podcast sulla Costa Concordia. Solo la nostra ha camminato, ma ha camminato perché ha fatto 4 milioni e mezzo di ascolti. E il resto invece non è apparso. E questo però, anche essere un po' fissati sul dire, ogni dettaglio deve essere a posto, devi avere tutti gli audio possibili da dentro la nave, vanno recuperati tutti i suoni, tutte le persone. A un certo punto Pablo Trincia, che lo fa, che è matto, mi ha detto vado via due giorni, scusami, ma mi manca ancora un suono. E io non ho usato neanche chiedergli cosa stesse facendo. Ed è andato d'inverno al Giglio, con una barca, per fare l'audio col microfono, poi mi ha mandato la foto, dell'acqua, del rumore che l'acqua fa sulle scole dove la Concordia è andata a sbattere. Allora io scherzando, scusami, potrei anche andare all'idroscalo e bene o male acqua che sbatte. No, dice lui, secondo me era diversa, però per me era fondamentale che io i titoli di coda li facessi con il rumore dell'acqua che sbatte sulle scole. Allora, è follia, ma questa serie fatta così di contenuto sta camminando perché è diventato un libro di Enaudi e oggi diventerà un documentario venduto negli Stati Uniti e una serie tv. Perché? Perché ha dentro talmente tanta quantità di contenuto che quella quantità di contenuto cammina. L'altra cosa che è interessante invece sull'interazione è questo. Io parlo dei podcast e poi del resto... Io vedo quanto per noi negli ascolti la differenza alla faccia solo ed esclusivamente il passaparola su Instagram o su TikTok. Cioè, se una comunità sposa perché senta autenticità, gli piace, si diverte, si interessa e fa partire uno scambio, una moltiplicazione, quello ti fa salire gli ascolti in un tempo brevissimo. Se invece tu puoi utilizzare tutto quello che vuoi, anche fare sponsorizzazioni pesanti, importanti, eccetera, eccetera. Ma se non parte quella condivisione di una o qualche tipo di comunità a seconda dei temi, le cose non funzionano. Allora, cura sartoriale, dettaglio, nove mesi di produzione. E poi abbiamo anche esperienze straordinarie di maratoni, video, che insomma sono la cifra stilistica anche di Twitch, soprattutto in America. Come però anche in quello ci sono delle opportunità, si annidano delle opportunità per le marche e che tipo di dinamiche muovono anche rispetto alla relazione? Hai citato le maratone e mi viene subito in mente un caso che tu conosci anche bene, che abbiamo fatto recentemente a febbraio per il lancio della nuova gamma S22 di Samsung. Non so se c'è qualcuno di Samsung in sala, comunque sicuramente lo sapranno. Ci siamo inventati insieme a Samsung, insieme al nostro team creativo, una domination dell'home page di Twitch per sei ore, dove virtualmente tre streamer, che adesso vi cito e vi racconto perché abbiamo scelto questi tre, passavano virtualmente il testimonial in questa grande sfida che Samsung aveva dato agli streamer. raccontate secondo, con la vostra modalità, con la vostra chiave stilistica, diciamo chiave creativa, le feature innovative della gamma S22. E quindi abbiamo scelto tre streamer completamente diversi. Cikibe, che è, diciamo, tutti e tre gli streamer nascono come gamer, ma ormai, come dicevamo prima su Twitch, è un po' ridondante dire questo è un gamer. Cikibe è una gamer, che però è una grande appassionata di grafica, di arte, Kodomo, che è appassionata di fotografia, e Jody Cecchetto, figlio di Claudio Cecchetto, quindi tanti della nostra età sicuramente conoscono più Claudio Cecchetto che Jody, che comunque è un rapper, un appassionato di musica. E quindi Samsung, Twitch e Samsung hanno dato questa sfida ai tre streamer, raccontate sulla base della vostra passione il nuovo lancio. È stato un progetto di grandissimo successo. Come misuriamo il successo? Perché diciamo che è stato di grande successo? Perché c'è stato un engagement fortissima con la community, in termini di chat, in termini di richiesta di maggiore informazione, in termini proprio di come gli streamer sono riusciti a raccontare, con un linguaggio che sicuramente non era quello che Samsung aveva forse immaginato all'inizio, quando ha scritto il comunicato stampa per il lancio del prodotto, ma in questo caso il brand Samsung, ma tutti gli altri brand con cui noi lavoriamo, si affidano a Twitch e agli streamer affinché utilizzino il loro canale di comunicazione, il loro codice di comunicazione. Parlavi, ti do del tu, di quello che funziona su Instagram, su TikTok. È la stessa cosa su Twitch. Se io non utilizzo il linguaggio corretto che la community si aspetta di trovare su Twitch, quello stesso progetto non avrebbe funzionato. Grazie. La coerenza della narrazione di un prodotto specifico che poi va anche sugli altri social. Io su questo vorrei coinvolgere anche Andrea. Tra l'altro chiedo alla regia, Andrea ci ha mandato un contributo che chiedo di mandare a macchia, così vediamo alcuni lavori che avete realizzato in Casa Mondadori. Però questo, come si lega questa narrazione anche all'utilizzo poi dei social, come diciamo anche piattaforme di atterraggio del racconto, come ci diceva anche Calabresi? Aumenta, moltiplica la rilevanza? E l'altra domanda è, si parlava di contenuto. Un buon contenuto genera un buon engagement o non necessariamente funziona così? Intanto bisogna chiedersi cos'è qualità. Perché qualità in un podcast o in un libro non è uguale a qualità in un reel o in un video. Adesso, ad esempio, secondo me, se dovessi definire qualità in un video breve è autenticità. Tutto quello che ci puoi mettere al contorno, io vi potrei portare due video, uno girato al massimo livelli studio, tre videomaker, eccetera, e sicuramente voi direste di qualità molto più alta. e la stessa cosa girata con un iPhone da un ragazzo in cucina arriva molto più il secondo. La qualità, se la vediamo nei canoni tradizionali, è molto più della prima. Quindi autenticità prima di tutto. Poi i social sono, secondo me, la nuova televisione. Cioè si possono usare in mille modi. Sono belli per questo, perché si possono usare per comunicazioni di nicchia molto specifiche, in cui si vuole apparare a una community o addirittura creare una community. Ma in realtà quello che io spero succeda è che il branded content diventi tramite i social non più l'aggiunta alla comunicazione, ma la nuova riga di comunicazione. Perché quando al giorno d'oggi tu sei in grado di generare due milioni di video per ogni video breve su Giallo Zafferano, due milioni, che è come uno spot televisivo. Quando io sento parlare, abbiamo lavorato con dei creator, gli ho fatto fare a tre creator tre lanci. Lì è finita, secondo il brand, la campagna di comunicazione. Bello se vuoi fare una cosa che è la classica chicca, la classica figata di cui parlava Andrea Di Fonzo. Ma basta figate. Cioè, quando il brand vuole vendere, non va in televisione dicendo sto tre giorni su Italia 1 con uno spot specifico su Italia 1. Allora, se uno vuole utilizzare, questi sono suoi enti fortissimi, vanno utilizzati anche con le logiche mass market della comunicazione. Cioè, ne devi fare 20 di lanci. Cioè, devi farne 20, lo devi fare continuativo. Devi utilizzare questo streaming con le logiche del nuovo linguaggio, ma con delle logiche che poi sono ancora la vecchia copertura e frequenza. Che questi strumenti, soprattutto sui giovani, sui target 18-24, TikTok, Facebook e Instagram, hanno tutti più del 70% di penetrazione sulla popolazione italiana. e Twitch, dove vuoi andare se vuoi comunicare a questo target? Ma, in realtà, questi sono nuovi target, perché in realtà poi si arriva tranquillamente ai 50 anni. Quindi io credo che debba anche un po' cambiare questa mentalità della fatto in casa piccolino, carino, perché si può andare molto oltre con questi strumenti. Si può andare molto oltre. Tra l'altro la platea, lo dico agli ospiti qui, è presente una forte rappresentanza di aziende, di manager delle aziende. Allora io vi chiedo, qual è, dai editori, qual è il consiglio che vi sentite di dare alle marche per investire nelle varie declinazioni, dalla voce al video, alle varie modalità di racconto? Calabresi. Io trovo che la cosa più importante sia la coerenza. Cioè essere coerenti tra quello che è il DNA di una marca, di un brand, e quello che si vuole trasmettere. Quando si vedono, già a chi è più grande fa effetto vedere che qualcuno cerca di raccontare se stesso perché prende un trend, appunto, la sostenibilità. Allora ecco, devo essere sostenibile, poi però tu entri in quel negozio, per esempio, e vedi tonnellate di plastica e dici, ma sostenibile dove? Ma questa cosa, per chi è più grande, è come dire, è qualche cosa che, vabbè, dici, vabbè, ci hanno provato. Per chi oggi ha, lo avete visto, ne parlavate anche prima, per chi oggi ha vent'anni, invece, la coerenza è un dato fondamentale. Tu mi hai fatto il furbo, mi hai preso in giro, dicendo che tu sei una cosa e invece non lo sei, questo è totalmente squalificante. Per cui, secondo me, e l'altro tema è quello dell'autenticità che sottolineavi prima. Secondo me, coerenza e autenticità sono le due cose. Per cui, e una cosa che funziona, per esempio, a me colpisce come il mercato degli, per esempio, come funzionano i TikTok sui libri. Il mercato americano, statunitense, del libro è deciso, i fatturati sono più del 5% è fatto su TikTok. E se voi andate a guardare come viaggiano i libri su TikTok, non viaggiano nel modo in cui possiamo immaginarlo. Per esempio, che è quello di Instagram, con le persone che presentano un libro e dicono ho letto questo, faccio un'intervista, è un bel libro. No, è tutto sostanzialmente non dichiarato. Non c'è ti presento questo libro, ma c'è una persona, sono più ragazzine che ragazzi, che ti legge una frase di una poesia che le è piaciuta, che vedi che sul comodino c'è un libro. È tutto molto meno dichiarato. Cioè, chiudo con questo, c'è un principio che è il motto della Scuola di giornalismo di Columbia e di University di New York. Io sognavo di farla, poi mia madre mi spiegò che me la potevo scordare. Però, quando avevo fatto invece la Scuola di giornalismo qua dietro dell'Ordine dei giornalisti di Milano, più prosaicamente, poi sono andato a visitare la sede della Scuola di giornalismo a Columbia University, perché quello era gratis entrare. E il motto si poteva prendere gratuitamente. E il motto è Show, don't tell. Mostra, non dire. Ecco, la chiave oggi per fare, secondo me, comunicazione di brand è mostra, cioè parla indirettamente del tuo DNA, dei tuoi valori, di quello che hai dentro, anziché dire. Non c'è bisogno di spiegare. Guardate la differenza tra un post che posso fare io su Instagram, che per le mie figlie dicono, quando lo leggono dicono Boomer, hai spiegato tutto, ma chiaro che si capiva con questa foto cosa volevi dire. Non c'era bisogno di mettere tutto sto testo. E quello che fa una persona che ha io ho due gemelle di 15 anni identiche, che, per cui mi fanno un mazzo così, e quello che bisogna capire è che molto è messaggio che passa direttamente, che deve essere meno spiegato, ma deve essere coerente con i valori del brand o dell'azienda. Grazie, Mario Calabresi. Casa Twitch, nella relazione coi brand, il consiglio a chi vorrebbe provare a misurarsi con questo mondo? Allora, autenticità e coerenza sono sicuramente le keyword per tutti. spesso sentiamo dire che la Gen Z non è interessata alla pubblicità. Io non sono così d'accordo con questa affermazione, nel senso che non sono interessati alla pubblicità tradizionale, allo spot normale, quello a cui siamo abituati diciamo sulla TV lineare, ma sicuramente apprezzano un contenuto sponsorizzato, un contenuto advertising che è coerente, che è ben embedded, ed è ben amalgamato all'interno di un contesto. Quindi, per i brand, il consiglio che diamo e il lavoro che facciamo spesso quando lavoriamo, anzi sempre quando lavoriamo con i brand, è proprio quello di trovare la chiave di lettura giusta per parlare in maniera corretta e autentica con il target di riferimento. In questo momento, Gen Z e Millennials hanno sicuramente cambiato un po' il paradigma di comunicare, di fare advertising. Andrea Sant'Agata. Faccio un po' di pubblicità al mio gruppo. Quando qualche anno fa, con Pietro Enrico, che è qua, noi Mondadori, fa parte del gruppo Fininvest Mediaset, Publitalia, siamo quelli lì, c'eravamo fissati con Giallo Zafferano che vedevamo che tantissimi facevano ricette con la Nutella. Ma voi, ora vi sembrerà normale, ma la Nutella per anni non l'aveva proprio nelle sue cose scritte che non si doveva usare la Nutella per ricettare. Quindi, quando tu andavi a dirgli questo, loro ti rispondevano mamma mia, anzi, eliminate tutti i contenuti che trovate, ma come sono migliaia, un sacco di pubblicità gratis vi sta facendo la rete. Quando si sono convinti, partendo da dieci ricette con la Nutella, che poi sono andati sul sito, poi sono andati sui social, poi sono andati in un ricettario attaccato alla Nutella a Natale, poi sono andati in una trasmissione televisiva prima di Natale, di tre minuti, cioè è diventato lo strumento di comunicazione con dieci semplici ricette, usando lo strumento di comunicazione pensato però in grande e a 360 gradi, non ho fatto il branded content di giallo zafferano di dieci ricette con la Nutella, è diventato quello che adesso è un ulteriore posizionamento di un brand iconico come quello di Nutella. Quindi anche togliamo il recinto al branded content, come dicevo prima, e pensiamo molto più in grande perché si possono fare progetti molto più belli, ma soprattutto che fanno vendere molto più prodotto. Grazie Andrea Sant'Agata, grazie Mario Calabresi, grazie Nicoletta Besio di essere stati con noi per queste riflessioni. Grazie a tutti!